Ciao ragazzi, ciao a tutti bentornati in questo nuovo episodio della Road to Diamond Allora, 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 allora Mi sono svegliato con la voglia di Yasuo Incredibilmente, ero secondo pick Non hanno bannato Yasuo e non hanno farsi piccato nel team nemico Quindi, perfetto, ho preso Yasuo e sono abbastanza felice Allora, sono goal 5 80 LP? Qualcosa del genere? Cioè, se vinco questa vado in promo Se la perdo, in teoria, basta che ne vinco un'altra e vado lo stesso in promo Allora, mi ricordo stavolta delle statistiche a fine game Ve lo, ve lo, se mi prometto Perché sapete la mia memoria, insomma, è un po' quello che è Allora, sono contro Poppy Una contro Poppy Non è un match facilissimo Perché Poppy mi... Se è bravina, mi nega la E E comunque è sempre Poppy, fa male, tanca e... Prima di fargli qualcosa Devo... dovrei averla a Blade of the Ruin King Anche se mettere la botta contro questo team Non è che sia un po' quel massimo, eh Perché... Cioè, solo Poppy, va tank Sì, Cartus, immagino, si farà la Roa E avrà tipo 2300 HP Blizzcrumb pure Quindi sì, non è male farsi la Roa Però... Eh sì, la Roa, farsi la botta Che però... Ovviamente devo... Cioè, devo chiudere l'infinity Prima della Roa Cioè, dipende Potrei anche... Potrei anche non chiudere l'infinity Però... Boh, vediamo Speriamo che il nostro Xerath E... Scripti Visto che sapete Xerath scripta sempre Cioè, in Aigelo però, eh, non qua E... Un'altra cosa C'è Shaco come... Come Jungle Quindi non pusherò Non pusherò Farò la fighetta per tutto il game E... Andrò... Andrò deciso su Poppy Solamente se vedo il loro jungler Che probabilmente potrebbe anche essere andato A invadere il nostro Red Io devo... Avrei dovuto coverare, cazzo Ok, Poppy è qua Non ha pullato Perché ovviamente non ha bisogno... Sì, me lo spara addosso Lo so Questo lo prendiamo Così non mi rompo più il cazzo Io non voglio pushare Però non voglio neanche... Eh, va bene Grandissimo questa Q Non voglio neanche che i Mino Mi vadano troppo sotto torre Magari ogni tanto Tiro una Q a lei Cammino, cammino, cammino Cammino Finché non mi... Si ricarica la... Lo shield Che non posso permettere che lei mi... Eh, lo sapevo Che lo facevo Non posso permettere che lei mi arrasi gratis Con la sua... Con la sua passiva Io... Quel Mino lo perdo Non è un problema Lei è già il 2 Quindi mi va benissimo perdere quel Mino Che poi me li trovo sotto torre E mi va bene così Ok, questo faccio così Non dovrebbe prendermi Perfetto Questi così Dovrei prenderli entrambi Ok Il Tornado non lo uso perché mi pusha Lo uso così Non lo uso perché mi pusha troppo SS Ok Ok Ehm... Manca... Manca Poppy, cazzo Manca Poppy e non so dove è andata Cioè se manca È perché è andata a qualche parte Sciacqua e raccini di intorni Oh mio dio È quello là Fidesick Fidesick Non farti stunnare Ok Fidesick Non fa... Non voglio andare... Cioè non è che non voglio andare ad aiutarlo Ma c'ho qua C'ho quella lente Sto farmando bene Sono anche altre... Ora posso andarci su Poppy Ok Stiamo attenti Ho perso un minimum Va bene A me sta benissimo Non farmare basta Perché farmando Io sono più efficace di Poppy Non so È un po' brutto giocare a Yasuo Così da... Da Pussy Però Però alla fine Io devo puntare a vincere Ok Stiamo attenti ai muri Che già sono andato Ok Eh non è stato molto ward Questo sì però Stiamo attenti Perché Non vogliono i push Ha ancora le Crystalline Flask Lei e io Ok che c'ho ancora tutto Ho ancora le pozze No il muro Allora devo mettermi in testa Come devo andare vicino al muro Non gioco spesso contro Poppy Quindi non sono molto abituato A fare questo pensiero Oh Sono ancora vicino al muro Sono ancora... Ora posso andare su di lei Ok Bravo Xerath Bravo Xerath lo scripter Shaco Ok Shaco è morto Aia Aia No non posso andarci Mi ha fatto un bel trade lei Mi ha fatto un bel trade Però ha usato tutte le Crystalline Flask Ha usato tutte le Crystalline Flask Devo stare attento A non farmi No Eh appunto Ok non mi ammazza Devo Devo recollare al più presto Shaco potrebbe venire Siamo dai varmi È morto ma potrebbe venire Siamo venire top Quindi recollo Mi faccio I due oggetti Della Shin E torno subito in lane Ok ok E si Puzze ne ho bisogno Tipo qua E pink Bresciaco Ho apposto Io sono livello Siamo livello pari Lei ora non ha più che String Flask Potrei andare addosso Eh però sapete Non so dove Shaco Ok Non so dove Shaco Io mi tengo la lane così Guardate mi tengo la lane così In modo tale da In modo tale Questi dovrei Farmarli così Ok Questo no però Mi tengo la lane così In modo tale da fare Più o meno Più o meno possibili E prendendo il minimo rischio Mettiamo una pink qua Ora la lane però Pusha verso di La lane pusha verso di lei Ok ha tipato sul cannone Perfetto Quindi vuol dire che La lane pusha verso di me Il TP l'ho usato Xera sta vincendo Ok Sembra tutto In ordine Diamo sempre un'occhiata Alla minimappa Non stiamo vicino ai muri Prendiamo questi due assieme Nice Solo ulti Se Fiddle mi fa un gank Penso che possiamo anche Killarla Poppy Qua no Non lo prendo Ok Ok Shaco è lì vicino Io sono Ok sono al 6 Sono un livello sopra di lei Quindi Ora che ho visto che Shaco Non le faccio niente A parte che ho missato Tutto Ah ok Ecco perché non le faccio niente Ce la c'è in vesta A parte non fargli niente Primo Ho missato praticamente Tutte le Tutte le Q Dat meccanics Dat meccanics Ora sono veramente In pericolo All'unimento sono veramente In pericolo Quindi faccio così Puscio più che posso In fretta Puscio in fretta Sto lontano dai muri Magari Spero che Shaco Non ci sia Ok Vediamo di qua Me ne vado E Teoricamente tornando Ce la dovrei fare Ho lo zial Ho la zial Lo zial Non so se è maschile Famiglia Sto cazzo di oggetto Ho farmato un po' poco Però Prendo lo zial Due pozze E torno in lane Torno in lane E la way dovrebbe Lol Vediamo se è scripti Non credo Era abbastanza facile Però Bravo Xerath Ultimamente nelle ranks Sono veramente fortunato Perché anche se Non brillo io Ho dei compagni Che comunque Fanno veramente bene Vorrei tanto Chiarmi questa pop Più 1v1 Ma penso che non ce la farò A tipo 113 A 113 di armor E io Non ho Io non ho Non ho attacco Cioè Ho critico Ok va bene Però Senza un minimo di attacco Non riuscirò a evitarlo Però beh Ah non mi ha fatto un cazzo No Ero Ero vicino al muro Ecco Ora potrei No Ma porca puttana Che palla Ero troppo vicino a lei Ho sbagliato Ero troppo vicino a lei E quindi mi ha contato Il muro Mi ha contato il muro Davanti e non dietro My bad Avrei dovuto flashare No Non faccio il gridi qua Tanto lei non ha il tp Lei non ha il tp Non mi interessa Cioè Si ok Mi interessa di killarla Però Per il momento Non è una priorità A me basta Prendere la tower E va benissimo così Cioè Fare danno più che altro Shaco e bot A posto Ho sbagliato Perché il windwall Ovviamente Non va dritto Dove sono io Ma va un po' più avanti Giustamente E visto che io ero appiccicato A poppy Avrei dovuto usare La Avrei dovuto usare La E Andare più lontano E poi usare il windwall Però Però sono pollo Ora lei avrà la sunfire No Ah si sta mettendo Si sta mettendo La Lo zz Lo zz Noll Perché si farà subito Lo zz Ok Cioè va bene Lo zz Contro jasuo Perché jasuo Pusha molto Però Cioè È un oggetto un po' strano Da rushare Su poppy Cioè su poppy Si rusha la sunfire Su poppy si rusha la sunfire Non di certo questo Ops Sapete che posso killarla O forse No non più Non più Andiamo via Andiamo via Che ho quasi la phantom dancer Quanta che mi manca Per la pd Mi mancano Una wave E mezza O forse solo una Ho un po' delle vestite Della doran blade Diamo di sfruttarlo Di non farci killare Da poppy Come un pollo Ah bardo sta venendo qua Quindi non devo pushare Però boh No Infatti No se ne sta andando Adesso Ok Niente niente Va bene così Ha thrashato Eh stavolta Non faccio lo stesso errore Cazzo ho maxato la cu Va bene Va bene così Va bene così Ho fatto i soldi Ho fatto i soldi Per la pd E me ne vado La lane è messa bene Per l'ora lei Sarà costretta A usare il tp Io no Mi prendo questa Peccato che non ho ancora Le scarpe Un'altra pozza Anzi mettiamolo due Che mi aiutano parecchio Sto sbagliando Perché non ho ancora Preso le refillable Avrei dovuto prenderle Molto prima Lei non ha ancora Lo zz Per fortuna Io di far Sto messo un po' Maluccio Avrei dovuto farmare Un po' di più Non so perché C'ho solo 83 Però magari Che tre Ne ho messa stra bene Già l'infinity Però non si è messa l'arica Si è proprio lasciata L'infinity Come Alla super vecchia maniera SS Io ho il tp Nel caso servisse Anche se Preferirei andare Preferirei Continuare La top Poi Pistada sicuramente Infatti Poi è lì Allora Li aiuto O mi faccio i cazzi miei qua Mi faccio i cazzi miei qua Perché se prendo la tower È meglio Oh blitz is up Perfetto Non è vero È qui Ok Eh lo so Fiditi se c'è morto Però Per me È più worth Prendere la torre Decisamente È più worth Prendere la torre Bella Bella questa Q Bellissima anche questa Q Ian The Q The Q Master Ok Dammi questo minion Dammi anche quest'altro No Xero a tuo favore No non prendermi minion Dai ti prego Madonna Li fa fuori tutti con un colpo Forse dovevo andare Aiutare Kate No ma no Justamente no Prendiamo la ward qua Guardate Kartus Stunnalo Ok Attenzione Al muro Vero via Non mi ammazza Anche ho detto Attenzione al muro E boom Stunnalo al muro Che idiota Ho usato la E in modo brutto Dove l'ho messo sto robo? Non so dove l'ho messo Ma al momento non posso tirarlo via Andiamo via Mi prendo le Mi prendo le Mercury E poi faccio l'Infinity Ho il TP Penso di conservarmelo ancora Penso di conservarmelo ancora Se tanto non ne ho troppo bisogno Oh Stavolta mi prendo le Refillable Vaffanculo Anche se sono un po' in ritardo Kartus is blaming my luck If he sucks on me Report me as you want I don't care Perfetto Mi va benissimo così Mi sta dicendo che siamo già in promo? Cioè non vogliamo cattare vittoria A torri stiamo stravincendo A torri obiettivi No beh obiettivi no Ma a torri stiamo vincendo Cioè obiettivi di jungle no Mi piacerebbe molto avere questo Sapete Questo dovrei prenderlo così Eh vabbè Madonna santa Una volta le hit tavole Una volta ero bravo a mirare Ma arrivano fino a qua sti robi Make it quick Ok Questi li prendo Faccio così e dasho direttamente verso di loro A salvio? Ma dai chi dio Ok Non è la coppia vero? Vabbè che sfiga Ok Ah non ho abbastanza danni Che idiota Stavo per fare una stronzata in mane Ehm no Non ce la faccio Non ce la faccio Un po' più troppo No no Dove sto andando vicino al muro? Ma qual è il mio problema? Non riesco a Non riesco a giocare oggi Non riesco a giocare oggi No Questa c'è le cristalline flasche Beh Sto cazzo stiamo vincendo Cioè è 4-0 il tipo Stiamo attenti Raga ma come sto giocando Scusatemi Perdonatemi Ma come sto usando sto yasuo? Mi sto vergognando di me stesso Vediamo se riesco a beitarlo Niente non prendo le Q Non prendo le Q È incredibile Non prendo le Q È incredibile Raga Solo faccio schifo I fucking suck No 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 It's my bad Me yas Ha ragione Faccio veramente schifo Non so perché Mi trovo Mi sto trovando un po' scomodo Col mouse Non so Boh Vabbè che è da due giorni Che non tocco lol Però Non è giustificabile Vabbè io me lo sarei aspettato Con il flash In effetti Però Sto facendo veramente schifo Cioè non ho preso una Q Un tornado Non prendo niente Mi sa che mi conviene smettere Di sottomontare sto game Se no finiamo che lo perdiamo Finisce che lo perdiamo Boom Ciao yasuo Fammi Ora che ho la BF Dovrebbe essere un po' più semplice Vabbè raga Sì vabbè no Adeo Yasuo main Chiamatemi Yasuo Chiamatemi la fusione di Yasuo E arcadata Mi trovo scomodo Mi trovo scomodo Lo so perché Non sto cercando di giustificarmi Però mi sto scomodo Mi trovo davvero scomodo A girarmi col mouse Mi trovo Veramente scomodo Sì 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 Prendiamo sta roba Spero di poterlo avere io Ma non può fare niente Ora magari sì Che due coglioni Mi sono messo vicino al muro Ok vabbè Ok mi va bene Grazie Blizzcrank Potevo andare Perché c'eravano stream Ma mi avrebbero stunnato in 20 Quindi meglio di no Porca puttana Che palle sta W Eh unlucky Xerati io direi basta Qua non c'è niente Diti più l'ho già usato Pusciamo una mid Pusciamo una mid Anche se non mi sembra Una buonissima idea E loro sono tutti up No loro sono tutti up Andiamo via Ah ok L'ho preso io Alla fine l'herald Va bene Forse dovevo rimanere Vabbè Ketrine è stata un po' stupida Ok questi li lascio L'altro non mi interessa Bravo Xerat Fammi farmare Che sono veramente Basso di farm Ok Can we please Sì dovremmo Group and stop fucking All under getting back Sì in effetti stanno Tornando indietro Ma grupparci Non lo so Non mi sembra una buonissima idea Grupparci Non mi sembra Una buonissima idea Ce l'ho il pk 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 si ce l'ho Ok Direi che è il caso Di andare mid adesso Anche se poppy Poppy mi puscia la torre Che drago è Che drago è Vabbè senza poppy Dovremmo farci Io ora credo di avere i danni Per farmela L'injata Ave 188 armor Penso di no Penso di no Spero che non abbia il tp Spero che non abbia il tp Sto montando i muri Ok Ah carto se l'è affanculo Perfetto I punti di carto Lo stanno arrivando Quindi devo dire Che meno sono No Perfetto C'è il baron Devo togliere Lo zz Sta qua Non è che mi sta aspettando Ok Varo però è enorme Ok poppy è bot Poppy è bot Vabbè abbiamo fatto Un 2x1 I drake È abbastanza worth Il problema è che Varus è enorme Varus è enorme Vaffanculo No non c'è andare Kate Madonna Niente Kate ne sta muovendo Ma perché surrender Ma vaffanculo Noob Kate Si noob Kate Giusto Perché non ha veramente Position Il late è nostro Tanto Cioè siamo più forti Di loro Basta che Io basta che ammazzo Varus Ce la faccio tranquillamente Ammazzare Varus Grazie per i clacson Bastardi Livello 9 Fiddle Morto exerct Forse 9 il culo Ma veramente di culo Ma chi cazzo è che suona il clacson così Eh a lei Però 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 questo ci muore Mamma mia Fa malissimo Fa malissimo Fa malissimo Fa malissimo Varus Fa davvero malissimo Varus Ah ci sta prendendo le torri Perché Perché Interestiamo Non uno di qua Oh non prendo Non prendo una Q Eh Togliamo lo ZZ Prima di fightare Togliamo lo ZZ Prima di fightare Ma quanto male mi fa Ma Fight please Eeeh Non è che devo iniziarlo io il fight Ma chi è il nostro engager Non ci Noi non abbiamo un Noi non abbiamo Qualcuno che ingaggi Noi non abbiamo qualcuno che ingaggi No We don't have No one No one That can engage No one Solo Fidesic Ma è rimasto Boh Non abbiamo nessuno Non abbiamo nessuno Cioè c'è Fidesic Ma è rimasto a prenderle Basta Va Ancora l'ulti Fidesic Ancora l'ulti Up Ma perché c'è questo Ma perché c'è quello Ah beh io devo andare a aspettare Io devo andare a aspettare Ora mi faccio la botta Che sta cazzo di pop Di merda Vediamo di ucciderla La torre quant'è Non vedo la vita della torre Adesso la vedo Ma è troppo tardi If Fiddle Don't know How to use ult Yes Se lui non ulta Se lui non ulta Se lui non ulta Perdiamo sì E non abbiamo nessuno Che ingaggia C'è solo lui Loro hanno poppy E blizzcrunk Se quello non si sveglia A ultare Madonna le mie Se quello non si sveglia A ultare Questa la perdiamo sì Questa la perdiamo sì Poppy è enorme Cioè più che enorme Sì è 4-1 Comunque Non riesco ancora a uccidere da solo Cioè Mi uscirei ma Sono scarso Sono al Baron quelli eh Sì ammazziamo Varus Katrin è botta a farsi i cazzi suoi Katrin è botta a farsi i cazzi suoi Varus ha face checkato Don't face check Xerath Magari Magari non face check Ma comunque magari Ma non è vero Guarda lì che sono qua Ma scusa Io l'ho fatto lì Ma vabbè Bard fai qualcosa Please Bard Bard entra dentro E picchia Vabbè Bard Vabbè no Non dico niente Perché Ok No ma Più che altro Io ho ultato Qua E mi ha ultato Invece qua dentro Vabbè ho sbagliato Però più che altro Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso È È che Cioè Varus era fermo Io mi aspettavo una sua ulti Io mi aspettavo una sua ulti Per cui non sono andato così Poppa cazzo duro E invece E invece Vabbè Almeno non abbiamo tirato via due Fate sto coso Non dovrebbe uscire Non dovrebbe uscire Nei poppi adesso Ma non è che danni Ma non è che danni Ma basta ancora Ma Ma come funziona Sto muro di merda Ma come funziona Sto ulti C'è io la click Non va Dai ma quanto è grossa Sto tizia Mi date un knock up Qualcuno mi dà un knock up No perché non c'è nessuno Che ce l'abbia Non riesco a giocare Gli aso oggi Non riesco a giocare Gli aso Non riesco a giocare Gli aso Ragazzi È incredibile Non riesco a giocare Gli aso È incredibile Lo lascio da parte Per una Per più di una settimana E alle Kate Ma te ne vai Affanculo Ma non capisci Che C'è la botta a difendere Non è che perché Tu hai farmato di merda Devo farmare di merda Pure io per te Vabbè no ragazzi Ho un problema al mouse Ho un problema al mouse Ho un problema al mouse Ormai Con anche bard C'è la zona Ora qua Qua ce la fanno a difendere Io tiro dritto mid Io tiro dritto mid Se non ammazzo neanche cartos Mi do fuoco Salve Lei si è accorto Che lo sto picchiando Guarda Non uso neanche l'ultimo Sì lo so Che sciacquo è lì Ma Al momento Non posso fermarlo Al momento Non posso fermarlo Pronto? Sì io faccio questo Ma Io faccio questo Ma voi mi dovete fare Mi dovete difendere là Ok Guarda se prendo la tower E il limite Ovviamente non ce la faccio Perfetto Prendete anche quella E andiamo via Ok Allora Regruppiamoci Ho messo la guardian angel Cioè Basta Stop Stop Go back No no Io ti lascio morire Perché non meritate Non meritate Non meritate di vivere Non meritate di vivere Continua Continuando Stava continuando Quando non avevamo nessuna possibilità Di andare avanti Ok Adesso ho la bo Ancora qua Questo tizio Adesso ho la bo Troc Ovviamente Guarda sta andato di qua Lo sapevo Porca era Ma guarda Fides Raga ma fidesi Che è pazzo Fidesi Che non ci sta Con la testa Ha sprecato un ultimo Per prendere sciacco Ha sprecato un ultimo Per prendere sciacco Qui perdiamo di posizione Più che altro Io non riesco a raggiungere varus Devo raggiungere varus Al flash tra poco Sì Allora Stiamo un attimo Qua così Fides Must Engage Or We Can't Do Nothing Non possiamo fare niente Se lui non ingaggia Però di nuovo Senza ulti Anzi qua Perdiamo di posizione Qua perdiamo di posizione Più che Più di altro Avremmo bisogno Fidesi 50 secondi Bisogna aspettare lui Bisogna aspettare lui Io dovrei pushare Cioè io dovrei Splittare Perché Cartu sta splittando Ma ora perché Stiamo andando tutti i bot Ma che stiamo Noi Ora li faccio male Questa qua Ma non li faccio male Ma il mio obiettivo è varus Cioè Non devo mozzare pop Il mio obiettivo è varus Vabbè Cartu sa Evidenti problemi mentali Per fortuna Come Counterare L'ulti di cartus Grazie per avermi tolto Ok Chaco Perfetto 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 Inib 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 Però loro sono tardi Varus è rimasto fermo Quando mi ha visto flashare Loro sono tardi E noi siamo più tardi di loro Loro sono veramente tardi Mi vergogno A soffrire così tanto Con questi qua Perché sono veramente scarsi Ops Ma che cazzo fai E' normale che io Che io ho missi tutte le Q E' normale che io ho missi tutte le Q Tutto Tornado Secondo me non è normale Secondo me sono scarso Anzi togliamo il secondo me Sono scarso ragazzi Sono scarso oppure sto vincendo lo stesso Non meriterei di perdere Per carità Ho farmato Ho farmato bene Ma non c'entra nulla Faccio veramente schifo Faccio veramente schifo Can't carry this team Ma Vabbè Poppy non è che ha giocato bene Poppy Ho giocato male io Ho failato un 65Q 32.000 Vabbè 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 Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Lo stesso Ah giusto le statistiche Non me le sono dimenticato Fermi 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 Ve lo dico dopo Spero che Allora le statistiche Le statistiche Sì ok ora vedete la mia webcam spostata Perché non ho più la grafica dello streaming Allora Ok Intanto sono stato qualificato per la serie Intanto Poi Aspetta che ve lo metto più bello Ok Così Vabbè La webcam Ok 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 va bene Allora Allora Advanced Details Danni Facciamo Facciamo così No com'è che era quello grafico Ok Allora Danni Second top damage Va bene Xerati il primo Danni totali Proprio totali E c'è che Beh no no Non ho fatto magia Più che altro Più che altro Ho fatto pochi danni Quello si 4-3-6 Non scorre veramente di merda Large of King of Spray 2 Large of Mustache 1 Minion Ne ho fatti Minion Almeno quelle Ne ho fatti più di tutti Almeno quelle Vabbè ragazzi Spero che vi sia piaciuto il video Ci vediamo al prossimo Lasciate il commento Condividete E mettete il like Sono in promo Ci vedremo per la promo A Gold 4 Che spero mi faccia saltare Direttamente al 3 Ciao 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 Grazie.